Bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su Bsquare Gaming, come al solito qui è il vostro fra e vi farò Black Ops 3, non so se avremo ospiti sul canale, quello che vi voglio dire è considerate che questa è una maratona di Black Ops 3, nel senso che probabilmente continuerò a pubblicare finché YouTube mi reggerà il caricamento, quindi iniziamo subito, io vi ricordo che iniziamo dalla prima missione e sarà tutta completamente in italiano, scegli sesso io naturalmente donna, anche se ci siamo già spoilerati nel precedente video che cosa succederà, ma non lo diremo, allora quello che posso fare è o Ginger o Superbionda, e forse in questo caso sembra quasi più figa Ginger, dai va bene Ginger, recluta ragazzi perché non ho voglia, confermo, avvio partita, ragazzi faremo sia la modalità zombie, sia la modalità multiplayer, si coveremo scusate, copriremo tutto. La pratica comune nel mondo sviluppato, la portata di questo disastro ha sopraffatto le autorità, le super tempeste funestano la regione, ostacolando i soccorsi, viviamo nell'incertezza, il futuro dipende dalle scelte che compiamo, con il continuo aumentare della popolazione si moltiplicano le megacittà, le condizioni estreme hanno provocato grandi esodi di massa, le basi dell'accordo erano in allerta. Il sistema DEAD ha neutralizzato l'attacco quasi immediatamente. Nuovi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine hanno causato altre vittime. Ebbene sì, questa è una nuova guerra fredda, anche se spesso non possiamo vederli, i nemici sono là fuori. Sono Jacob Hendricks, il nuovo capo. Questo è il ministro egiziano Said. Preso in ostaggio dall'NRC due giorni fa. Dopo le recenti rivolte al Cairo, vorranno farne un esempio. Punirlo. Noi dobbiamo impedirlo. Tanto per chiarirci, se dovesse andare male, voi non esisterà. Allora, come leggete nella descrizione, siamo molto dopo rispetto al precedente Black Ops. Adesso mi sono dimenticato i sottotitoli, ma li aggiungo. Quindi evitate di scrivere tra i commenti, aggiungi i sottotitoli, perché stanno per arrivare. Quindi state sereni, alla prima occasione ve li metterò. Abbiamo un minuto per creare la madre di tutti i diversivi. Anzi, sapete che vi dico? Perché ve li posso mettere adesso. Intanto vi dico, primo video, quindi mi raccomando. Mi raccomando. Allora, ma come cazzo? Ok. Scusate. Grafica. Perché posso scegliere grafica? Luminosità, indicatore. Giocatore. Audio. Volume. Riusciremo mai. Vabbè, insomma, dopo ve lo metto. Mi spiace che adesso non riesco a mettermelo. A metterlo. Riuscirò a metterli i sottotitoli, eh? Ve lo prometto. Promesso! Torre, deviare tutto il traffico dalla pista 1-9. Ricevuto. Deviazione traffico alla pista 1-1. Cargo 4-0-1-9. Carburante in fiamme sulla pista 1-9. Procedere all'atterraggio sulla pista 1-1. Confermare. Ehi! Ok. Confermato. Atterraggio sulla pista 1-1. Ok, a te. Bene. Modulo di violazione ok. Ricalibrazione puntamento dead. C'è qualcuno. Bypass manuale dead. Definire bersaglio. Input confermato. Dati di puntamento inseriti. Torre, siamo stati agganciati. Questo è un mezzo NRC alle altre arrivo. Qui non ci risulta. Possibile che abbiate un guasto. Fuoco, ora! Fuoco! Sistema dead in funzione. Ingaggio. Oh merda. State giù! Diamoci da fare. Ok. Diversivo riuscito. Mezzo a terra. Confermato. Le sentinelle stanno andando a controllare. Puntate al pacco. Prendetelo prima che si rompa. O che lo rompano. Va bene. Ci vediamo più tardi. Confermato. Ragazzi, vi chiedo solo di pazientare per questo video. Cercherò di parlare il meno possibile per evitare di coprire i dialoghi. Intanto con questi uniformi passeremo inosservati. Almeno finché non apriremo bocca. Allora tienila cucina. Quindi ragazzi, scusatemi in questo primo video. Ve l'ho già messo uno con i sottotitoli qua. Dobbiamo aprire la posizione esatta del ministro. Testa e armi basso. Sangue freddo. Fino al recupero. Ti seguo. Ok. Quindi corriamo in maniera... Minchia, stavamo per essere investiti. Non facciamoci vedere, ma non è che mi sembra che sia così facile. Tra persone che bruciano e persone che corrono in mezzo al campo. Vabbè, noi ci proviamo. Allora, vediamo un po'. Ok, progressi sono stati salvati. Qui devo capire... Succa. Ma succa duro. Vabbè, potreste anche aprire la porta, no? Ok. Va bene. Quindi ragazzi, mi raccomando. A quanto pare non ho la tuta aumentata con tipo il... Come si chiamano? Il jetpack che ci fa fare salti. Perché a quanto pare non possiamo fare salti. Non possiamo attaccarci ai muri. Così come hanno fatto in Titanfall. E così come hanno introdotto nel nuovo Black Cox. Scusate, chiamerò Black Cox. Anche qui devo fare una dovuta precisazione. Visto che ultimamente l'ironia non è più sul canale. Ma... Siamo alla stazione di sicurezza. Entriamo. Così come Master Chief era diventato Master Chef. Black Ops è diventato Black Cox per ovvi motivi. Io sono pronta. Ok. Che fissa. Va bene, allora. Disattivo gli allarmi del piano. Tu collegati e trova il ministro. Colleghiamoci. E vediamo un po' dov'è questo stronzo. Ok. Taylor, cerchiamo il pacco. Il mio. In attesa di riconoscimento facciale. Altri ostaggi. Pensavo ci fosse solo il ministro. Sì, anch'io. Eh, questo sta bene, eh, devo dire. Guarda quei poveracci. L'NRC non va mai per il sottile. Severi ma terribilmente giusti, come direbbe qualcuno. Sapevi degli altri prigionieri? Il ministro è l'unica priorità. Ricevuto. Il prossimo feed. Lasceremo che li torturino a morte. Abbiamo degli ordini. Aio, aio. Ma cosa gli fa quello con la fiamma sidrica nel culo? Ah, mamma mia, che dolore. Eccolo, è il ministro. Vabbè, è vero. Lo spostano. Dobbiamo scoprire dove lo portano. Eccolo qui. Ah. Questa scrivania l'avevamo già vista. L'abbiamo trovato. Andiamo a prenderla. E ha una buona cera. Due minuti. Due minuti. Il cronometro. Ok, il cronometro. La simpatia non è il suo forte. Parli per esperienza personale. Fidati. È così. Scusate, c'è scritto RPG difettoso? Ah, è un collezionabile. Ragazzi, io ho schiarito il più possibile, ma sul mio monitor... Oh, merda. È ancora super scuro. Infatti ci sono andato praticamente... Ok. Fa un culo. Ecco. Come fallire subito, ragazzi. No, scusate. È l'ascuro. Poi dite... Non sei abbastanza pro. Perdonatemi. Ma... Scusate, eh. Oh, perfetto. Così mi... Adesso, piano piano, mi riprendo. Scusate, ragazzi. Anche perché è sera. Oh, praticamente... Oh, ma non mi devi passare davanti. Sacco di merda. Eh, che cazzo. Quindi, dovete perdonare, ma sarò abbastanza pedal to the metal, visto che l'ho già fatta questa... questa, tra virgolette, fatta, vista in inglese, questa parte. Quindi, perdonatemi. Dal prossimo sarò più sniperone. Chi è che mi sta sparando? Ok. Proviamo qui. Qui c'è spazio. Per una granatina. Dai, aprite sta porta. Porcaccia miseria. Su. Ecco le celle. Dietro di me. Va bene. Li rompiamo subito. Ragazzi, devo prendere un attimo manualità. L'ho appena preso, per favore. Fatemi capire esattamente tutti... Tempo di reazione delle granate. Tutte queste cose qui. L'interrogatore dà le spalle alla porta. Due sentinelle con la guardia abbassata. Al mio segnale. Dai. Punta. Via! Siamo qui per salvarla. Faccia come dico e se la caverà. E il tenente Khalil? Gli altri! No, non c'è tempo. Khalil è stato un eroe... Khalil? Sapete che questo lo rende molto prezioso per la loro propaganda. Lo faranno diventare un esempio. Cazzo! Ok, andiamo. Dai, ti muovi? Porcaccia miseria. Va bene. Allora, siamo di nuovo qui. Vediamo un po'. Come se non sapessi cosa c'è dietro. Caro Khalil, un amico insuperabile. Ma mi sa che... Ah no, è vivo. Non ricordare. Puoi combattere Khalil? Sempre. Prendiamo un'arma da quell'armadietto e riprogrammiamola con i tuoi dati. Ormai ci stanno addosso. Andiamo! Dai, però veloce, eh. Prendo un pacco in arrivo. Con uno in più. Uno in più. Dovevate prendere solamente il ministro. Si tratta del tenente Khalil. Ti dice qualcosa? Muovetevi. Ci vediamo di sopra. A me non dice niente. Il deposito sarà ben difeso. Pronti a far fuoco. Perché prevedo bei cazzi? Adesso sono sicuro. Merda. Ok. Dai, tira fuori la testa. Testa di cazzo. Ok, a posto così. Oddio. E questo da dove cazzo è uscito? Ma Khalil, fai qualche cazzo. Dai il tuo contributo. Cioè, perché sennò... Cioè, nel senso... Qui lavoro solo io. Ci siamo. Là c'è il motagast. Merda. Aio. Sapete che è talmente scuro che non vedo chi mi... Chi mi sta... Ecco. Praticamente non vedo nemmeno chi mi sta sparando addosso. Cioè, fate voi. E' talmente scuro il mio monitor che... Ecco. Che non vedo un cazzo. Mi sembrano tutte delle ombre nere. Ok. Fermi, fermi tutti. Ecco. Dai, salta! Porcaccia la miseria. Pure! Ok. Dai, muori! C'è un altro là di... Ah no, il mio è alleato. Ok. Questo è Khalil, ve lo. Khalil! Khalil, amico inseparabile! Vediamo la faccia di Khalil. Dai, Khalil. Guardami in faccia. A parte che è troppo scura. Vi sto dicendo, io ho un monitor di merda. Purtroppo per giocare. Questo è Hendrix. Questo è il nostro ministro. E questo è Khalil. Il nostro amico. Diversamente nordico. Va bene, guys. Ma voi mi dovete dire, ma come... Abbassatele! Subito! Facciamole, siamo morti. Fidati. È meglio fare come dico. Giuliani! E invece... Cippalippa come se fosse Antani. Antani, come se fosse Antani. Per due. Minchia, che... Che elite. Vi è cresciuto il pacco. Che peccato. Non rimpiango quando ti prendevi cura di me. Non è divertente. Che mi dite del recupero? Cariche pronte. Andiamo, abbiamo dieci minuti. Diaz, devi fare da babysitter. Forza! Resta vicino. Ma anch'io voglio questa figata di diventare invisibile, maledetto Monello. Come faccio? Ok. Allora. Cominciamo a non correre troppo a cazzo. Anch'io voglio saltare così tanto. Passeremo da sopra. Merda. Ma che cazzo... Ok. Passiamo da qua sopra. Come effettivamente ci ha consigliato il nostro super amicone. Dai. Che cazzo? Non vedo niente. Merda. Le nostre armi sono inefficaci contro quell'Apc. Dobbiamo abbattere quel Beetle. Puntare ai missili. E vai. Così mi piace. Facciamo esplodere tutto. Ma sì, chi se ne frega, tanto paga lo zio. Ok, volevo vedere com'era il combattimento. Ecco. Cos'è questa scatola di munizioni? Che può sempre essere utile. Aspetta, aspetta un momento. Che cazzo? Ah, diazzi. Caccia miseria. Meno male non c'è il fuoco amico. Perché sennò... Avrei già sterminato la mia squadra. Tanto è buio, ragazzi. Beh. Vuoi aprire? Che poi ci sarà la possibilità di... Accendere... Una luce, eh. Io sono convinto. Quindi adesso vedrete che l'accenderò, eh. Farò tutto. Non vi preoccupate. Dovrei aver preso sto merda di... Uh. Ok. Sbriamoci. La recupero verrà oltre il ponte. Ce li avremo sempre alle costole. Abbiamo piazzato delle cariche per coprirci la fuga. Li faremo saltare appena avremo attraversato il ponte. Nessuno ci seguirà. Ok. Merda. Venite pure. Ne ho perduti. Come faccio a fare esplodere il veicolo? Merda, ma su tutti i lati. Ponte è là, andiamo. Dai. A posto. Merda. Forse devo proprio correre in mezzo. Io non mi ricordo un cazzo. Penso... L'ho visto ieri sera e ancora mi sto chiedendo che cazzo devo fare. Fate un po' voi. Forse in arrivo dal ponte. Possiamo scordarci i posti. Dai, fermo. Da, cazzo. Piano B, facciamolo saltare. Andremo al recupero secondario. Merda. Taylor, recupero primario compromesso. Passiamo al secondo. Ok. Tutto merito mio, devo dire. Accedo ai sistemi elettrici dell'edificio. A posto. Munizioni. Che bello. Pure. Così per non farci mancare niente. Vuoi farci combattere al buio? Più o meno. Vi trasmetto il feed tattico. Ricorda, loro non hanno visori notturni. Con calma. Uno alla bocca. Sì, direi, però, con giudizio. Ma scusa, ma non mi doveva vedere come cazzo ha fatto a percepirmi. Io volevo proprio fare il vile avvicinandomi e facendolo fuori al... Praticamente con le mani. Ah, merdoni. Siete tutti morti, eh. Bene. Bene. Bene, ma non benissimo, voi direte. Però, vabbè. Quel Vitol ci blocca qui. Calmi, non sparate, ce l'ho. Olè. Dai, prendi questo stronzo qua sopra. Ammazza, oh. Beh, li abbiamo uccisi tutti, no? Ah no, mancava lui. Ragazzi, è veramente troppo scuro. Io vi giuro, voi lo vedrete chiaro, ma io lo vedo veramente scuro. Va bene. Dai. Perché qualcosa mi dice che sarà anche una questione di potenziamento di tutto e che quindi le armi più fighe... Dovremmo faticarle a utilizzare. Silenzio. Lo sento anch'io. Ascoltate. Porca puttana. Merda. Contatto. Sono robot da salto a NRC. Un muglio di robot. Dobbiamo aprire quella porta. Merda. Dateci fuoco di copertura. Dentro. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Craggio, stronzi. Noi pensiamo ai robot. Loro pensano ai robot. Sono a metà di mille. Come fanno a pensare ai robot? Lui è già su. Via libera, ce la caviamo. Ci sono altri ostaggi. Potreste liberarli voi. Non sono una priorità. Lo so benissimo, ma sono pur sempre persone, cazzo. Ormai hai perso ogni briciolo di umanità. Ok, cambio di programma. Hendrix, voi preoccupatevi di portare il ministro al sicuro. Noi torneremo per gli ostaggi. Altri robot. Nessun problema. Sono pane per i nostri denti. Che bello. Dai, dai, sale bordo. Stronzolo. Dai. Io guido. Tu usa una torretta. Eh, ti pareva. Grazie. Allora, era apparso. Va bene, perfetto. Cazzina, finalmente un mitragliatore degno di nota, cazzo. Ragazzi, quanto pagherai per avere un mouse? Minchia, ragazzi, che powerful sta... Sto cazzo di mitragliatore, eh. Occhio, facciamo una deviazione. Oh, ma... Ok. Abc da destra. Fuoco. Bella mira, cazzo. Eh, puoi dirlo forte. Mica stai parlando con pizza e fichi, eh. Eh. Vito lì in arrivo. Attacchiamolo. Dai, dai, dai. Perfetto. Merda! Questo affare si è fermato. Oddio. Andricks, mettilo in funzione. Che cazzo sto facendo, secondo te? Dai, parti, stronzo! Dai! Spigeli! Questa merda non può mollarci qui! Merda! Cioè, io guardavo il mio lato e questo stronzo di fianco non faceva niente. Faceva le seghe di gruppo, non lo so. Così, voleva, voleva dire così. Minchia, sti robot, come dicevo prima, mi sembrava troppo quel film su Ciappi. Hendricks, bersagli aggiuntivi al sicuro. Portatevi al ministro. Noi procediamo al recupero secondario con quattro pacchi extra. Ricevuto. Esco di strada. Recupero il ministro. Cazzo! Siamo troppo veloci. È il nostro passaggio. Primo passaggio imminente. Tenetevi pronti. Capsula sganciata. Spazio aereo non praticabile. Dai, corri, stronzo! Rinforzi NRC in arrivo da sinistra. Ministro, tutto bene, può muoversi. Sto bene. Sto bene, prego. Portatemi via da qui. Muoviamoci! Andiamo via, presto! Fammi salire, cazzo! Respingeli! Ci serve il ministro in posizione. Concentra il fuoco su bersagli. Facciamola finita, gente. Non mollare, manca poco! Dici? Mamma mia, la soggettività del tempo è proprio una brutta cosa. Devi tenere a bada quei bastardi! Ho capito. Ehi! Entrò in posizione, pronto al recupero. Libero! Ti voglio subito a cui! Oddio! Dai, dai, dai! No, aspetta! Drone pronto a par negativo. Spazio aereo compromesso. No, no, merda! Vai all'ABC! Ficcata lì, subito! Taylor, la mia squadra è ancora a regumero. Altri robot LRC in arrivo. Arriviamo, due minuti. Tenete duro, non morirete oggi. No! Merda, ragazzi, che male. Teniamo duro che vi devo dire, ragazzi. Però sono bei cazzi. Sempre duri, ma bei cazzi. Ok, ragazzi. A me non resta che darvi appuntamento al prossimo video. E ci vediamo alla prossima!